Benvenuti in Omnicorp. Siamo specializzati nella progettazione, produzione, distribuzione e consegna di serramenti direttamente sui cantieri in ogni parte del mondo. Forniamo servizi sia a clienti privati che a aziende e istituzioni governative. Al momento possiamo vantare una base clienti stabile di circa 10.000 persone. Grazie a una politica dei prezzi ragionevole e alla qualità elevata dei prodotti, aumentiamo il fatturato e ci espandiamo anno dopo anno per attirare nuovi clienti. Ogni ordine per noi è trattato con la massima priorità. Una finestra per Milanono? Nessun problema. Un cancello per Napoli? Assolutamente. Un set di serramenti per l'ampliamento di un hotel a Roma? Lo consegneremo direttamente sul cantiere. Il successo dell'azienda Omnicorp è il risultato delle persone, dell'esperienza, dell'impegno e della professionalità che mettiamo nel nostro lavoro. Gli investimenti continui nella crescita dell'azienda CI hanno permesso di diventare uno dei principali fornitori di porte, finestre, portoni e altri articoli edilizi su internet. Grazie alla presenza su importanti piattaforme di e-commerce e a diverse pagine web, i nostri prodotti possono essere trovati in qualsiasi momento, giorno e notte. I calcolatori di prodotto consentono di ottenere un preventivo autonomamente e persino di effettuare un ordine senza dover contattare il nostro team. Tuttavia, per la tua sicurezza, ogni ordine passa attraverso il nostro reparto di controllo che verifica se le dimensioni richieste sono conformi Agli Standard edilizi. Siamo pronti a servire i nostri clienti al 100% online, ma se desideri vedere i nostri prodotti di persona, ti invitiamo a visitare uno dei nostri 3 punti di assistenza clienti. Su centinaia di metri quadrati possiamo mostrarti qualsiasi prodotto della nostra offerta. Ti aspettiamo!